Oggi c'è stato questo taglio del nastro del ponte Flaiano, voi avete fatto questo atto dimostrativo perché in pratica questo ponte è nato quando al governo della città c'era il centrodestra. È un atto dimostrativo garbato, molto diverso da quello di cui si rese autore il governatore D'Alfonso nel 2009 quando fu inaugurato il ponte del mare e anticipò l'inaugurazione del sindaco appena eletto. È un'opera che sentiamo nostra, è un'opera che però ovviamente viene consegnata domani alla città dal sindaco, da colui che indossa la fascia tricolore e questo sta nelle regole del gioco. Non sta nelle regole del gioco che invece non ci sia garbo istituzionale, che non ci sia da parte del sindaco Alessandrini che subisce l'intervento a gamba tesa del governatore D'Alfonso, la sensibilità di dire in maniera chiara e forte alla città che ringraziano chi prima ha lavorato e ha creato le condizioni per consegnare ai pescaresi e non soltanto ai pescaresi un'opera straordinaria come questa. Sindaco Alessandrini, domani ci sarà l'inaugurazione del ponte Flaiano, una giornata intensa che inizierà la mattina e poi proseguirà la sera anche con un concerto gratuito a disposizione dei cittadini. La giornata di domani si articola in due fasi, al mattino un incontro sul ponte alle 10.30 con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Rio ci saranno delle scolaresche, vuole essere una quasi simbolica presa di possesso della infrastruttura del ponte Flaiano e la sera la grande festa, il taglio del nastro e il concerto con i Sud Sound System. Il ponte Flaiano è lungo 85 metri, è largo 28, il suo pennone arriva a 58 metri d'altezza dal suolo. Questo ponte fa sì che coloro i quali arrivano a Pescara potranno, prendendo quello svincolo, andare direttamente nell'area centrale, nel parco centrale come noi chiamiamo l'attuale area di risulta, parcheggiare lì la macchina e quindi alleggerire la viabilità cittadina perché evidentemente lo svincolo di Piazza Italia sarà fortemente alleggerito. Si calcola che ogni giorno 70.000 automobili percorrano questo tratto di strada e questo ti dà il senso di quanto questo alleggerirà il traffico veicolare cittadino. Sottolino anche che questo ponte è anche ciclopedonale, quindi non è solo per le macchine ma anche per i pedoni e i ciclisti.